eccoci qua ragazzi tornati con i risultati del fantacalcio della quarta giornata di serie a questa settimana giocavamo contro la squadra pistoiese nelle fendi e ragazzi è la squadra di vito e un altro ragazzo che adesso ricordo il nome perché comunque siamo in tanti però giocavamo contro questa squadra qui allora partiamo dalla sua formazione deve essere sincero a sto giro sono stati fortunati noi e sfortunati loro perché loro partono con christian senno cioè loro partono con realtà scusate in porta con consigli da quello che leggo non gioca consigli panchinaro avevano christian senno il portiere della fiorentina ma ha giocato terraciano o comunque adesso non mi ricordo se era il contrario ha messo christian senno e poi vabbè e poi consigli comunque in panchina fatto sa che a loro già giocano con un uomo in meno perché giocano senza portiere questo un grandissimo vantaggio per me e danni poi ragazzi in difesa però hanno preso dei bei voti perché arriva al 7 più 3 10 di buongiorno che comunque segna col torino arriva al 6 di bastoni e arriva a bel 5 ha munito quattro e mezzo brutto voto di uternandes ma mira ha perso 5 a 1 dire che ci sta non gli gioca racmani perché non gli gioca racmani ragazzi gli subentra la panchina doig che prende 6 quindi alla fine ci sta come voto anche se di doig in difesa comunque non ha dei brutti voti passiamo all'attacco alla centrocampo centrocampo roschino lovrich 5 e mezzo zambo aggissa 5 ragazzi hanno messo frattesi 7 più 3 10 ha munito 9 e mezzo quindi ottimo voto anche in questo caso al centrocampo trovano un bonus e rovella con il 6 in attacco sono un attacco a 2 perché loro fanno il 4 4 2 laurente 5 e mezzo non gioca di a gli subentra al suo posto jovic dalla panchina con il 6 quindi ragazzi alla fine loro hanno avuto un voto in meno quanto hanno fatto secondo voi loro ragazzi loro hanno fatto 64 64 equivale a 0 gol perché il primo gol scatta 66 fortunati perché qualora avessero avuto il portiere sicuramente a meno che noi piava sotto il 2 avrebbero fatto il gol e quindi fare un gol significa che comunque noi avremmo dovuto farne 2 e non sarebbe comunque stata semplice noi partiamo ragazzi invece in porta tocca alla nostra formazione mia di Dani con Skorupski che piglia 6 clean sheet 7 finisce 0 a 0 c'è da dire che noi avevamo anche lui Patricio ed è finita 7 a 0 Roma Empoli quindi alla fine gli avrei rischiato lui Patricio poi Dani ha fatto la pazzia di mettere Skorupski anche lui per fortuna ha preso in battibilità e ci portiamo a casa questo clean sheet poi giochiamo con Erlitz 5 a Monito 4 e mezzo bruttissimo voto Bijol che piglia 6 e mezzo non ci gioca Smalling dalla panchina ci subentra Mazzocchi che però prende 5 quindi anche in questo caso possiamo dirlo brutto brutto voto a centro campo ragazzi il nostro solito 3 4 3 Politano 7 più 3 10 Politano ci sta dando delle gioie perché comunque Politano segna ci sta segnando quindi 7 più 13 Politano Matteo Serri che ci piglia 5 e mezzo Macumbu del Cagliari ci prende 6 e Kostic della Juve ci prende 6 in attacco abbiamo schiato il tridente Zapata, Cavaraschegli e Colombo Zapata piglia 6 e mezzo Cavaraschegli ha malissimo contro il Gino e prende 5 e mezzo Colombo ragazzi Colombo 6 e mezzo assist 7 e mezzo quindi scelta azzeccata quella di mettere Colombo paradossalmente ragazzi noi avevamo anche Giroud in panchina che ha fatto l'assist per le aude il 5 a 1 quindi abbiamo lasciato Giroud in panchina però vabbè nel derby non c'è la sensita di schierarlo a quest'ora a posto di un Cavara avremmo avuto magari qualche punticino in più però questo non è un problema non cambia tanto la nostra situazione quanto abbiamo fatto noi ragazzi? noi abbiamo fatto 70 per 2 punti non si è riuscito a fare il secondo gol ma per 4 punti comunque abbiamo già raggiunto e superato il primo gol quindi noi questa settimana qua ragazzi in poche parole avete capito che vinciamo 1 a 0 1 a 0 esattamente 1 a 0 è un ottimo risultato perché alla fine cortomuso l'avversario gioca comunque in 10 ne abbiamo approfittato e ce n'è andata bene perché ripeto qualora l'avversario non giocava in 10 noi questa partita qua l'avremmo pareggiata almeno che non avessimo indovinato il cambio che va da schierla con Giroud Giroud avrebbe avuto qualche punto in più non so quanti però forse quel bonus di ci permetteva di arrivare al secondo gol però non ci interessa abbiamo vinto 1 a 0 quindi siamo contenti infatti noi vogliamo vedere adesso gli altri risultati degli altri giocatori del fantacalcio allora Pissuese nel Fendi perde 0 a 1 contro Bira Real che siamo gli edani e ci portiamo alla vittoria Anguilla FC vince 3 a 0 contro Rubin Kebab Do Insemini perde 2 a 3 contro Schalke 104 Aston Birra perde 0 a 2 contro Regno di Firenze quindi niente da fare e Dallas Madonna vince 3 a 0 contro Eagles FC questi qua sono i risultati di questa settimana adesso andiamo a vedere la classifica ragazzi la classifica allora la classifica parla chiaro parla chiarissimo la devo trovare perché non lo non la trovo è quella qua Regno di Firenze è primo a 10 punti segue secondo posto sempre a 10 punti Schalke 104 Dallas Madonna è terzo a 7 punti a pari con Do Insemini che è sempre quarto ma a 7 punti e noi ragazzi Bira Real FC siamo quinti ma poco importa perché siamo a 7 punti a pari del quarto e del terzo in classifica quindi siamo lì siamo a meno oltre al primo posto ecco c'è anche Eagles FC che comunque è sesto a 7 punti siamo tutti lì poi c'è Rubin Kegbab settimo posto 5 punti Anguilla FC che dopo la sua prima vittoria schiacciante 3 a 0 ottavo posto 3 punti e poi ci sono Pisto di Sine Refendi che sono quelli che abbiamo solo noi che rimangono fermi a 0 punti al nono posto e Aston Bira che rimane decimo a 0 punti pure lui quindi ragazzi questa qua è la nostra situazione di classifica abbiamo vinto 1 a 0, corto muso abbiamo avuto anche fortuna perché hanno giocato 1 in meno quindi a sto giro c'è andata bene non mi posso lamentare fatemi sapere un po' voi in questi due commenti cosa avete combinato nella vostra giornata al fantacalcio come siete messi nelle prime 4 giornate in classifica lasciate un bel like se comunque il video vi è piaciuto che se avete il vostro sport continuano a portarvi la serie del fantacalcio fino alla fine del campionato e soprattutto ragazzi anche se vi piacere iscrivetevi al canale che fornitano che non costa nulla e per venire a trovare il suo sport basta con il clic su iscriviti e se siete iscritti se lo fatevi ringrazio di cuore condividete anche il video con i vostri amici per iscriverti anche loro e attivate la campionata notifiche così non per i prossimi riusciranno in descrizione troverete anche il link del bar di Facebook Channel e tutti gli altri link dei vari social quindi ragazzi dovete andarmi a seguire anche lì siete benvenuti qui da me è tutto ci è andata bene aspettiamo la prossima giornata che è quasi alle porte bella grazie a tutti